Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Oggi andiamo a cambiare i tappetini della nostra amatissima Alfa Romomito I tappetini sono stati forniti dalla MTM Shop Vi faccio vedere il bel pacco con... ...dentro i tappetini Potete andare a trovarli sul loro merchandising online mtm.it se non sbaglio Comunque sia basta cercate MTM Shop su Google e li trovate subito Hanno anche un configuratore Quindi potrete fare i tappetini a vostro piacimento Con le scritte che vi pare, colori, cuciture Tipo di tessuto e bordino del tappetino Quindi ovviamente non fanno tappetino Soltanto per l'Alfa Romomito Ma anche per qualsiasi altro marchio di auto e modello ovviamente Quindi io direi di andare con l'intro E poi vi faccio vedere i tappetini Spettacolari raga Cioè veramente Questo è quello del lato guidatore Lo sono fatto fare con la scritta Mito in giallo Doppia cucitura gialla E bordino similpelle Tessuto veramente fantastico Ci sono anche i tappi E ci ho fatto fare La spugnatura per non rovinare Il battitacco se non sbaglio si chiama Per non distruggere il tessuto con i talloni Quindi procediamo Eccoci qua Questo è il lato passeggero Sente con scritta Mito E i buchetti per fissarvi Poi andiamo Questo dovrebbe essere quello che va a sinistra E questo quello che va a destra Veramente spettacolari Ovviamente potete anche farvi fare le scritte dietro Io ho scelto di farle soltanto davanti Tanto dietro non c'è mai nessuno Quindi Va bene così Ovviamente potete scegliere Se fare la scritta Centrale qui O sull'altro lato A vostro proprio piacimento Soltanto su questo tappetino O su tutti e quattro O su soltanto Quelli due anteriori Quindi Veramente tante roba Io direi di andargli a mettere in macchina però Che magari stanno meglio lì Perfetti ragazzi Stupendi C'è Tutti i dettagli gialli Poi penso che più avanti Faremo anche La cuffia Del cambio E la cuffia del freno a mano Con le cuciture gialle Quindi Andiamo a mettere gli altri E poi ritorniamo Quindi raga Spettacolari questi tappetini comunque Grazie ancora MTM Shop sono veramente belli Stupendi Qui cavi volanti In giro Però Purtroppo Cornice gialli Tappetini gialli Volante Cuciture gialle E mirino giallo Wow Sono stupendi 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 Quindi ragazzi Per il video di oggi Concludiamo qui Ringrazio ancora MTMShop.com C'era scritto Tappetini Auto Made in Italy Prodotto italiano Sempre ben accetto Comprate italiano Quindi Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate Iscrivetevi alla mia pagina Instagram InchTuning Per questo video è tutto Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti